Vediamo un esercizio propedeutico allo squat e allo stacco che può insegnarci come contrarre bene i muscoli della parte centrale del corpo e dei glutei per effettuare in maniera ottimale squat e stacco senza perdere le curve naturali del lombari cifotiche e lordotiche del corpo. Questo è l'esercizio come dovrebbe essere effettuato il good morning ma con un bastone, una mazza da scopo, un bilanciere posto in maniera parallela alla curva del nostro corpo, alle vertebre del busto portiamo indietro i glutei piegandoci contemporaneamente sulle ginocchia, sulle gambe andando a toccare con i glutei verso il muro posto un po' all'indietro di un 50 cm rispetto a noi. Questo esercizio è ottimo per imparare come non perdere le naturali curve lordotiche cifotiche del corpo e soprattutto per imparare in maniera ottimale come effettuare anche il good morning con carichi un po' più elevati. Grazie a tutti!